Un villaggio del Sussex, pittoresco agglomerato di rustici cottage e dai tetti di paglia che rimontano a 400 anni orsono, dove gli abitanti si dedicano alla coltivazione delle violette che vengono seminate con grandi cure durante la primavera. In settembre le piantine sono cresciute abbastanza per essere trapiantate al riparo dal freddo, o ricoperte con apposite campane di vetro. L'inverno le violette oggetti di costanti cure fioriscono e quando torna la primavera sono pronte per il raccolto. Oltre queste qualità coltivate, altre ne fioriscono spontaneamente all'aperto e ogni anno circa 50.000 piante di tutte le varietà di viole danno i loro fragranti vellutati fiori pronti per essere spediti in tutta l'Inghilterra.